L'arte per aiutare più deboli e questo è il senso di Fondamenta, una rete di giovani per il sociale, il progetto promosso dalla FITA, la Federazione Italiana Teatro Amatori, che si propone di affrontare situazioni di disagio e fragilità, puntando in particolare sui laboratori teatrali. Di questa iniziativa, finanziata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, se ne è parlato durante un incontro organizzato nell'Aulamagna dell'Istituto Cuoco di Isernia. Si sta svolgendo su tutto il territorio nazionale, stiamo realizzando dei workshop rivolti al sociale, partendo dagli ultimi, partendo dalle situazioni più marginalizzate, di difficoltà, nei luoghi dove andiamo a operare. In particolar modo abbiamo lavorato con diversamente abili, con immigrati, siamo andati nelle case anziani. L'idea di fondo del progetto fondamenta era quella di partire appunto dalle periferie, da posti dove magari lo Stato non arriva, determinate possibilità non vengono offerte. Quindi la federazione si è proposta di sostituirsi, di collaborare con le istituzioni locali per poter offrire dei servizi che altrimenti non sarebbero erogati. In Molise l'attenzione si è dunque concentrata sul mondo della scuola. Tra gli istituti che hanno aderito al progetto c'è proprio il cuoco Manupella di Isernia. La sensibilità e l'ongimiranza della preside Mariela Di Sanza ci ha dato la possibilità di coinvolgere 12 ragazzi appartenenti appunto a questi due istituti, di svolgere il workshop di 18 ore. È stata un'esperienza meravigliosa, i ragazzi si sono confrontati e hanno appreso delle tecniche teatrali applicabili al disagio, tant'è che sempre nell'istituto Manupella si sono praticamente messi in gioco giocando tra virgolette con gli amici diversamente abili dell'istituto. Esperienza meravigliosa e di grande coinvolgimento emotivo. I ragazzi felicissimi.